Buongiorno, buon sabato mattina e ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano con l'informazione Occhio ai giornali, puntualmente ogni mattina alle 7.30 vi da una finestra su quelli che sono Gli articoli principali sul resto del Carlino e Corriere Adriatico Ma non prima di aver visto Santo del Giorno e poi uno specchio delle previsioni del tempo Oggi è sabato 29 aprile, Santa Caterina da Siena, il sole è sorto alle 6.02 e tramonterà alle 20.09 Le previsioni del tempo, guardiamo in questo lungo weekend pasquale, scusate del primo maggio Quello pasquale è già andato, sabato 29, oggi vedete è un po' all'insegna della variabilità Per lo meno nella nostra provincia, nel settore settentrionale delle marche Vedete, comparsa di simbologia della pioggia, infatti un impulso instabile sulle marche Darà modo a qualche rovescio in mattinata di fare la sua presenza Mentre sull'Abruzzo il tempo rimarrà soleggiato Però per il resto della giornata si mostrerà bella e soleggiata E come vedete anche nel pomeriggio il tempo migliora sicuramente Vediamo poi per domenica e qui il tempo si stabilizza E naturalmente vedete sole pieno su tutta la regione Marche Sia mattina che anche pomeriggio, vedete non c'è nulla di che da dire Vediamo il primo di maggio, il giorno di festa Festa dei lavoratori Anche qui tutto sommato c'è un inizio di giornata all'insegna del bello Con qualche velatura, influenzato solo marginalmente il medio adriatico In questa perturbazione proveniente dal nord Italia Però nel pomeriggio potranno aumentare le nuvole sulle marche E anche qualche rovescio e qualche piovasco Infatti vedete nel pomeriggio del primo di maggio La nuvolosità aumenta e c'è anche la simbologia dei temporali E quindi insomma per chi fa una scampagnata Tenga conto di questo, insomma nel pomeriggio forse è meglio cambiare aria Allora apriamo il resto del Carlino con la pagina di Fano Per una notizia che ci riguarda Riguarda un episodio che è successo qui nella nostra sede Poco più di un mese fa Un ignoto ha dato fuoco al nostro ingresso Allora il resto del Carlino pubblica la notizia che la procura sta indagando su una persona Ha tentato a Fano TV, indagato un pregiudicato Gli sono stati sequestrati telefono e felpe sarebbe l'esecutore Ora si cerca il mandante, il difensore dice Il mio assistito si professa estraneo totalmente all'incendio dell'emittente E qui nel resto del Carlino ho ripercorso un po' tutta la vicenda Con le foto che ormai conoscete molto bene E anche il fotogramma del video registrato dalle telecamere di videosorveglianza Che sono sopra la nostra sede Se volete rivedervelo tutto il filmato di quella sera C'è anche sul nostro sito, potete andarlo a vedere Continuiamo sulle pagine del resto del Carlino Rimaniamo in quelle di Fano Variante alla statale con i soldi del casello Si lavora a questo progetto Lanciato dal sindaco Massimo Seri In una lettera che ha mandato a Ceriscioli Proprio sulla questione sanità Dove visto che l'ospedale si farà a Muraglia Almeno che Fano abbia alcuni plus Ecco il progetto appunto a cui si lavora Intanto Fiorenzuolo della Revasta Studia la parte sanitaria Qui ci sono i costi, il tracciato Dove dovrebbe venire questa strada Questa variante appunto Per mettere in collegamento Per mettere in collegamento velocemente La nuova struttura con Fano Quindi si parla di qualcosa che va da Chiaruccia Fino lì Aveva un Kalashnikov sotto il letto Andiamo a Marotta I carabinieri hanno trovato anche Settetti di marijuana Nella sua abitazione Arrestato un 35enne nulla facente Nascondeva niente po' di meno Che una K-47 Che sarebbe il fucile mitragliatore Delle forze militari russe Quello che vedete sempre anche in diversi video E un caricatore con ben 20 proiettili Fermato e arrestato Continuiamo nelle pagine del resto del Carlino Andiamo a Peso Vi faccio vedere però la pagina di apertura Che riassume un po' quello che c'è Nell'inserto pesarese Parla una signora La dignitosa protesta di Maria Grazia Lavoratrice socialmente utile E impiegata in provincia Nell'articolo parla di quello che fa E dicono mi pagano per non far nulla Basta Insomma è vuota il sacco Poi foto notizia Caccia degli scroconi Tour del Carlino Insieme ai controllori sui mezzi di Adriaus Per verificare quanti furbetti ci sono E poi le notizie di cronaca Che vi ho letto poco fa E anche quella di Fanotto TV Scoperto l'incendiario Allora vediamo l'articolo Ecco qui Pagina 2 Sono due pagine La pagina 2 e la pagina 4 Del resto del Carlino Che dedica a questo aspetto Un ampio reportage Ve ne faccio vedere soltanto una Che riguarda chi paga E chi invece alle volte no Gli anziani dicono Noi paghiamo sempre Gli studenti rispondono Che gli abbonamenti sono un po' cari Il mio costa 300 euro all'anno Le voci dei viaggiatori regolari E poi ripeto A pagina 3 c'è l'altro aspetto Però vi faccio vedere un'altra pagina Che parla di ecologia Depuratore K.O. Liquami sul foglia I pescatori denunciano inquinamento Il guasto si è verificato All'impianto di Montecchio Verifiche naturalmente in corso Per quanto riguarda questo aspetto La pagina e le pagine di Fano Ve le ho fatte vedere Cambiamo a testata Andiamo nel Corriere Adriatico Vi faccio vedere la pagina di apertura Che è questa Terra dei motori Si tira dritto Turisti in attesa dal Giappone Stiamo parlando naturalmente Delle eccellenze motoristiche Sicuramente avete capito Di che cosa stiamo parlando Di Valentino Rossi e di Tavoglia La regione congela i fondi Biancai in maggioranza compatta Traino turistico per tutte le marche Poi Fotonotizia O in vela o in sella Un weekend carico di sport Dieci hotel puntano All'accoglienza turistica Dedicata agli amanti delle due ruote Ma anche dello sport Possiamo dire Sicuramente lo sport è uno dei motori turistici Sicuramente più importanti Visto anche le nostre strade Quindi il cicloturismo è sicuramente Agevolato per la varietà Della nostra conformazione geografica Che permette sia pianura che collina Insomma quindi è un importante punto Focale sul quale il turismo Dovrebbe appunto puntare L'economia del turismo Progetto turistico Intanto si parla di due ruote Ma con un motore sotto Il turismo appunto Questo progetto vale oro Vale naturalmente Giocando un po' sul nome di Valentino Vetrina per tutte le marche Terra di piloti e motori Fondi regionali contestati Però Biancani dice Nessuna marcia indietro Maggioranza compatta Qui vedete insomma Le folle che muove Il campione di Tavuglia E anche tutti gli amanti E tutto quello che c'è attorno Un indotto notevole Eccolo qua Dicevo Turisti welcome 10 hotel puntano Sul nuovo target Un target che in Romagna Appunto È ben sfruttato Da tanto tempo Ma Più dei ciclamotori Alloggiati in Romagna Dal Flaminio Allo Sporting I futuri Bike Hotel Occorre adeguare Però le strutture Perché ad esempio Hanno delle esigenze diverse Da quelli Naturalmente Che si muovono comunemente Hanno esigenze anche di meccanica Di ricoverare Le proprie biciclette Insomma C'è un Un asset Particolare Per questo tipo di turismo Ma che comunque Frutta e rende Si è parlato Di immigrazione Nel consiglio comunale Di Pesero Di ieri mattina La soluzione Però ideale Però non c'è Il sostegno Il sottosegretario Agli interni Menzione Ha incontrato I vertici istituzionali Occorre la collaborazione Di tutto I timori Naturalmente Sono legati Per la maggior parte Alla sicurezza Quindi quando vediamo C'è un flusso Molto importante Di migranti E quindi Insomma Che si inseriscono La comunità Alle volte Insomma Questa è la preoccupazione Che si accende Principalmente Nei cittadini Nei residenti Di quelle zone Andiamo a Urbino A Bellocchi A Bellocchio Scusate Sarà conferito Il sigillo Dell'Ateneo Cerimonia fissata Il prossimo maggio Giornata interimente Dedicata al regista Che vedete qui In questa In questa foto Quindi un'altra Un'altra onorificenza Conferita Dall'Ateneo Di Urbino E poi si parla Anche del processo Per Ismaele Lulli Dopo la sentenza Che naturalmente Ha messo Alla luce Un nuovo filone Quello Delle indagini Che riguardano Ambera E ecco qui L'articolo Nel Corriere Adriatico Ambera I silenzi E i dubbi Tutte le sue Contradizioni Delitto Lulli La richiesta Di nuove indagini Riporta L'attenzione Sulla ragazza Fano Per il Corriere Adriatico Dove si parla Di lavoro Sarà un primo maggio Con questa necessità Al primo posto E il Vescovo Fa festa In un'azienda Andrà Nella tenuta Guerrieri E quest'anno Attenzione All'impegno In agricoltura Vedete qui Bambini Che insomma Guardano Ammirati Che cosa Una vigna Può regalare E sicuramente Meglio che Studiarlo Sui libri Di scuola Andarlo a vedere Di persona Caseifanesi Richiesta Bocciata L'iniziativa Di forza Di forza Per gli alloggi Popolari Vedeva D'accordo Seri E Fulvi Ma la mozione Non Ma la mozione Ha fatto Breccia Quindi nessuna Concessione Alla mozione Di forza Italia Vediamo Anche le altre Pagine Ex Tribunale Si è Parlato Anche di Questo Nella conferenza Stampa Di ieri Del primo Cittadino Come sempre Con la stampa E' stata mostrata L'operazione Di restyling Dell'ex Tribunale Che accoglierà La polizia Del commercio E altri E altri Uffici Sempre provenienti Da Via Vitruvio Presentata Appunto La ristrutturazione Di palazzo Di quello che è Palazzo Nolfi Nella Valcesano Quindi notizie Dall'interno Senza corrente Per 12 ore Disagi e rabbia Per i residenti 10 famiglie Coinvolte Nel guasto Stacciola Sempre Abbandonata Da tutti Ecco il borco Di Stacciola Vicino a San Costanzo La luce E' tornata Alle 21 Il blackout E' iniziato Alle 9 di mattina Chiedo scusa E' interessato Il camping Marisierra L'ultima pagina Che vi faccio vedere E' quella di Senigallia Per una Una pratica Poco Poco sicura Per lo meno Per quelli che la praticano Anche così In maniera estemporanea Si chiama Parkour Andate a vedere Su internet Che cosa fanno Questi funamboli Volano da un tetto all'altro Da un muretto Insomma E' spettacolare Spettacolare da vedere Però presenta un alto Tasso di rischio Adolescenti volanti Tra parco E stadio Non siamo vandali Facciamo sport Il parkour Di laga Tra i giovani L'ultimo caso Segnato In via Montenero Le tracce Poi Come sempre fanno Pubblicano sul web Le loro imprese E quindi Il web E la loro Cassa di risonanza Bene Questa era l'ultima pagina Che vi facevo vedere Per oggi Grazie per essere stati In nostra compagnia Questo è tutto La segna stampa Torna martedì mattina Naturalmente Perché lunedì C'è il primo di maggio Sempre puntualmente Le 7.30 Grazie E buona giornata E buon fine settimana lungo A tutti voi Grazie 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 Grazie